Ok, andiamo Ok, andiamo Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Tenersi a destra E poi continuare dritto Andare 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 dritto Voltare a destra. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Tenersi a sinistra. www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Prepararsi a destra. Prepararsi a destra. Grazie a tutti. Voltare a sinistra. Prepararsi a destra. Prepararsi a destra. Grazie a tutti.